Commissario Passerelli, domani la consegna delle chiavi di questi appartamenti in Via Falda. Noi siamo rimasti a bocca aperta perché la qualità di questi appartamenti è davvero altissima. Era un vostro obiettivo questo? Sì, il nostro obiettivo che abbiamo cercato da subito, mettendo in campo, come avevo già detto, al convegno di Casa Clima qui a Civitavecchia, che ha dato subito l'indirizzo, ha fatto capire subito qual era il nostro indirizzo su come andare avanti. La solita storia, le case popolari non devono essere così belle, non lo sono mai state, invece si può fare. Il costo di costruzione, se si rispettano le normative, e noi non possiamo fare altrimenti, è lo stesso. Costruire male o bene costa lo stesso, pertanto noi abbiamo preferito costruire bene e consegneremo questo prodotto, questi 21 alloggi che sono in classe A più 4. Ci sono varie tipologie, da una camera, due camere, un bagno, due bagni, per cui giovani coppie, anziani o famiglie più numerose potranno trovare il loro spazio adatto per poter vivere in alloggi che sono considerati, anzi sono classificati popolari, ma che hanno un valore molto buono. Direttore Clementi, qual è stato il costo per l'Ater? Guardi, sembra un paradosso, ma questa operazione siamo riusciti a concluderla a costo zero, ovvero sia grazie a un finanziamento decennale della Banca Popolare del Lazio, che ringrazio per aver creduto in questo progetto, in questa attività, abbiamo ottenuto quello che tecnicamente viene chiamato un bullet, ovvero si hanno prestato i soldi per l'acquisto dell'intero immobile e i soldi noi restitueremo tra dieci anni, pagando gli interessi anno per anno. Questo ci ha permesso di congegnare un'operazione tale con cui, tramite l'affitto, un affitto erisorio che pagheranno gli inquilini di queste case, noi potremo nel corso degli anni ripagare gli interessi e a fine decennale rimborsare totalmente il prestito concesso dalla banca. Tengo a precisare che questa operazione per i nostri inquilini prevederà due call, ovvero a tre e a cinque anni gli inquilini che vorranno potranno acquistare l'immobile ad un prezzo prefissato oggi, se lo acquistano dopo tre anni il 40% degli affitti pagati andranno a scontare il prezzo finale, se lo acquistano dopo cinque anni il 20% del totale degli affitti pagati sconteranno sul prezzo di acquisto finale, se lo acquistano dopo dieci anni lo pagano a prezzo intero. Questa operazione è a costo zero per l'Ader, anzi qualche cosina ce la guadagniamo pure.